Hanno voluto smuovere un po' le acque, in qualche modo. Mi dispiace molto Perusebio Di Francesco perché sembra che le colpe siano state tutte sue, invece Di Francesco non ha nessuna colpa, anzi ha fatto pure dei miracoli secondo me. Aveva una squadra mosaico tutta sbagliata. Singolarmente qualcuno è bravo, ma insieme non è stato fatto un buon lavoro dal punto di vista di chi doveva scegliere i giocatori e soprattutto di chi ha venduto, di giocatori essenziali. Siamo in Champions League, è come se vendi dei giocatori importanti, è chiaro che non vai avanti, lo capisce pure un cretino. Di Francesco aveva fatto il massimo che poteva fare, che poteva fare di più. Ragneri si cerca in lui, che è una brava persona e anche un mio carissimo amico, che provi a dare delle motivazioni più forti ai giocatori, cerchiamo. Però poi deve partire una ricostruzione totale per questa squadra.